Maria Cazza Revisore Fin da quando ero bambino, mi hanno insegnato che per avere successo nella vita bisognava avere un piano. Mi dicevano, Luca, devi avere un piano. Luca, prepara il tuo piano. Ci insegnano, infatti, che la vita va programmata e da adulti è diventato indispensabile avere un piano nel mondo del lavoro. Se ci pensiamo, infatti, nel business, ogni azienda, ogni imprenditore, ogni grande innovatore ha un piano che descrive nei minimi dettagli il successo che andrà a realizzare. Tutti loro hanno una cosa in comune. Sono convinti che il loro piano originale li porterà a successo al raggiungimento di quel traguardo tanto desiderato, tanto sognato. Però sappiamo che la realtà è un'altra. Infatti, di solito, si sbagliano tutti. E sì, perché quel piano, pur preciso, dettagliato che sia, difficilmente supererà il confronto con la realtà. Quindi, a questo punto, ciò che separa il successo dall'insuccesso è la capacità di far evolvere quel piano e reagire al fallimento del piano originale. Qui abbiamo due tipologie di individui. Coloro che, nel momento che fallisce il piano originale, si fermano, si leccano le ferite, ma si rialzano e continuano, inesorabilmente, a implementare lo stesso identico piano, sperando, ovviamente, di essere più fortunati questa volta. E poi abbiamo, dall'altra parte, chi si ferma, evolve, cambia e stravolge quel piano, trasformandolo nel piano B. Se pensiamo bene, tutti i grandi innovatori della storia, se si fossero attenuti al loro piano originale, non avremmo oggi quelle aziende che consideriamo essere le più innovative del mercato, quelle aziende che hanno cambiato il nostro modo di vivere, quelle stesse aziende che, in questo momento, senza nominarle, vi stanno venendo in mente. Proviamo a vedere, infatti, insieme qualche realtà che è nata con un'idea, con un piano ben preciso ed oggi, però, fa tutt'altro. Quindi c'è un sito internet che nacque con l'idea di creare una piattaforma di video incontri dove veniva chiesto al gentil sesso di fare un upload di un video per 20 dollari, nella speranza di trovare l'anima gemella. Ecco, questa piattaforma è la più grande piattaforma al mondo di video gratuiti ed è YouTube. Siamo molto lontani dall'idea dei fondatori. Ma vediamo un altro esempio molto interessante. Stiamo parlando di un'azienda che ha più di cento anni di storia, siamo in Giappone, e questa azienda nasce con un piano ben preciso, quello di creare le carte da gioco del famoso gioco giapponese Anafuda. Ok, è sconosciuto per noi, sicuramente famoso nel sollevante. Però in questi cento anni di storia, questa azienda ha cambiato pelle, ha cambiato i suoi piani e si è trasformata. Infatti da produttore di carte da gioco è diventata un'azienda alimentare, inseguendo un po' un trend del momento, quello dell'instant noodles. Avete presente quei barattolini dove ci sono dentro i noodles? Ecco, l'idea che hanno avuto era fare l'instant rice. Va beh, ci poteva stare, perché il mercato tutti mangiano riso, quindi alla fine l'idea era centrata, però il successo non arrivò. per poi evolvere e diventare una compagnia di taxi. Forse voleva essere l'Uber dell'epoca? Il mercato non era ancora pronto? Ecco, anche qui il successo non arrivò. Poi cambiò completamente settore e aprirono una catena di hotel per incontri intimi chiamati Love Hotel. E qui, nonostante il lato romantico dell'iniziativa, il successo non arrivò. Infine, inventarono l'idraulico più famoso al mondo, quel lomino che saltava su e giù dai vari tubi e dalle fognature di New York. Beh, avete capito di chi sto parlando? Sto parlando di Super Mario. Quest'azienda è Nintendo, regina indiscussa delle console e dei videogame. Ma gli esempi sono tantissimi. Da cartiera a più grande produttore di telefonini a quasi non produrli più. La storia di Nokia è piena di piani A, piani B e anche altre versioni di piani. Avon era un'azienda che vendeva libri a porta a porta. PayPal è nata come un sistema di criptografia, non un sistema di pagamento. Tiffany era una cartoleria. non faceva né gioielli di lusso e neanche offriva colazioni. La lezione però è semplice. Quello che ci insegnano questi esempi è che i cambiamenti delle strategie aziendali non sono delle semplici note a piedi pagina nella storia di queste aziende, perché questi cambiamenti hanno creato nuovi scenari, nuove opportunità, nuovi modelli di business impensabili, rimanendo fedeli al piano originale. Allora a questo punto la domanda fondamentale è come hanno fatto queste aziende a passare dal piano A, quindi dal piano originale, a un modello di business di successo e sostenibile, il piano B. E perché milioni di aziende oggi non ci riescono, falliscono? Ora, prima di rispondere a questa domanda o provare ad arrivare a una risposta, vorrei condividere con voi un altro settore, che è quello che ovviamente mi è molto caro, che è il settore finanziario. Io ho passato la mia intera esistenza lavorativa tra banche e società finanziarie. Qui, in questo settore, è fondamentale scrivere piani, un po' perché viene imposto dal regolatore, un po' perché ci serve un piano per raccogliere i consensi al mercato o raccontare la nostra strategia. Però se guardiamo attentamente questi piani, scopriamo che il piano A di solito è un po' una copia del piano A dell'anno prima, con qualche aggiustamento, eccetera. Non esiste mai un piano B, e poi quando arrivano crisi finanziarie, nuovi player come le fintech che stanno rivoluzionando questo settore, o il cigno nero del Covid, tutti questi piani saltano uno dopo l'altro. E purtroppo anche le società stesse. Vi ho citato le fintech. Le fintech sono quelle società che uniscono finanza e tecnologia, che hanno un piano ben preciso, quello di ripensare prodotti e processi nel mondo finanziario. E qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, abbiamo chi ci permette di aprire un conto corrente in meno di otto minuti senza la solita burocrazia. Chi ci dà la possibilità di avere un credito istantaneo senza compilare, avete presente, quei lunghi formulari, attendere giorni per avere un esito. Chi addirittura ci trasforma in trader professionisti perché ci dà la possibilità di fare trading online in modo nuovo e innovativo. e chi invece addirittura ci attiva delle microassicurazioni magari per due giorni o per poche ore. Se però guardiamo attentamente questo mondo e queste società, scopriamo che tendenzialmente queste fintech non hanno inventato nulla. Eh sì, perché il conto corrente alla fine è il conto corrente. La carta di debito è la carta di debito, è la stessa identica carta che avevate in tasca dieci anni fa per fare acquisti. Quello che hanno fatto, quello che era nel loro piano, era rivoluzionare l'esperienza cliente, rendendola sicuramente più nuova, innovativa, ma soprattutto in linea con le aspettative del cliente di oggi, con i bisogni che il cliente ha oggi, che non sono più bisogni di dieci o quindici anni fa, forse neanche quelli di un anno fa. Ecco che è importante allora capire perché questi piani aziendali falliscono. Perché falliscono i piani aziendali? Perché di solito si parte dal presupposto che tutto sia già noto o conosciuto in anticipo. Ma il futuro è imprevedibile, lo sappiamo benissimo, e un piano non potrà prevedere ciò che è imprevedibile per eccellenza, il futuro. Un famoso comandante della Seconda Guerra Mondiale, Douglas MacArthur, disse «Nessun piano sopravvive mai al suo primo incontro con il nemico». E se ce lo dice un comandante militare, che fa piani di guerra tutti i giorni, insomma, prepara le truppe, e ci dice che attenzione che difficilmente quel piano supererà il nemico, supererà la realtà, allora dobbiamo riflettere su questo tema. C'è qualcun altro, però, che ci dà un messaggio simile, ovviamente con uno stile diverso, tutto suo. Non stiamo parlando di un militare, non stiamo parlando neanche del global CEO di una multinazionale. Stiamo parlando di uno sportivo che ci dice «Tutti abbiamo un piano finché qualcuno ci dà un pugno in faccia». Ebbene, il messaggio qui è chiaro. Qui ci dice, attenzione, Mike Tyson ci sta dicendo «Quando poi il tuo piano fallisce, la dura realtà fa male». Fa male quasi come un pugno di Mike Tyson. Insomma, ci siamo vicini. Ma a questo punto nelle aziende, voi lo sapete, no? Compiliamo file Excel, creiamo piani aziendali. Mi piace ricordare che, per esempio, l'Excel è uno strumento estremamente democratico. E sì, perché qualsiasi numero che noi andremo ad inserire nelle celle, lui lo accetterà, però la realtà è un'altra. A questo punto sembra scontata la risposta alla domanda abbiamo bisogno di un piano B. Ci aspettiamo, sì, abbiamo bisogno di un piano B. Prepariamoci il piano B. Invece, secondo me, non abbiamo bisogno di un piano B. Sì, perché non abbiamo bisogno di una serie di piani di backup o piani secondari, una lista di piani alternativi. non abbiamo bisogno neanche di una rete di salvataggio qualora il piano principale fallisca. Non abbiamo bisogno di tutto questo perché ci toglierebbe attenzione ed energie nell'implementare la nostra strategia. Provate a pensare, se sapete di avere una scappatoia o comunque di avere una via d'uscita, con quanta passione andreste a implementare la vostra strategia. Ma allora a questo punto cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una strategia con diverse traiettorie. Abbiamo bisogno di tre componenti, tre componenti essenziali per avere successo nel mondo del lavoro e per raggiungere i nostri obiettivi. Il primo componente è flexible planning, creare e pianificare in modo agile i nostri piani, al mutarsi delle condizioni di mercato, agli stimoli che il mercato e il consumatore ci danno ogni singolo giorno, perché il consumatore ci dice esattamente quello che vuole e come lo vuole. Però noi siamo intenti a seguire la nostra strada. La seconda componente è la cultura del cambiamento. Sviluppare una cultura del cambiamento che permetta alle aziende e ai manager di improvvisare. Sì, esattamente. Quello che ci manca è improvvisare intelligentemente al mutarsi delle condizioni. Infine, l'ultimo componente essenziale che reputo essere il più importante è accettare il fallimento. Prova, sbaglia e impara. Sì, perché il fallimento è parte integrante del successo. Non potrai vincere la tua sfida se prima non sei passato attraverso, speriamo, un solo fallimento. Beh, spesso sono più di uno. Il fallimento è parte integrante di un processo di apprendimento. Ho bisogno di fallire per capire cosa funziona e cosa no. La capacità di evolvere e di cambiare ogni giorno è il migliore piano B che tu possa mai aver avuto. Grazie. 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 Grazie.